Si impara a navigare ma non dimentichiamoci che ancora oggi purtroppo internet rappresenta attualmente ancora il far west. Saranno sempre un po' diffidenti ma grazie al progetto anche io uso internet gli over 65 saranno indubbiamente più capaci di navigare nella rete. Il progetto di alfabetizzazione digitale per facilitare l'utilizzo di internet è arrivato alla sua seconda edizione con il sostegno di Estra. Negli ultimi 5 anni siamo passati dal 2,5 al 6,7 degli anziani online e anche nella fascia tra i 65 e i 74 anni è più che raddoppiato l'utilizzo di internet tra gli anziani. Quindi dobbiamo lavorarci perché pensiamo alla relazione con un ente di previdenza o alla relazione con una grande azienda come Estra quanto è agevolato il rapporto rispetto all'impostazione tradizionale. Quindi bene andare incontro anche in questo senso ai nostri nonni. Sette lezioni che si articoleranno nel prossimo attunno e che verranno portate avanti da Anteas Arezzo. È un diritto perché il mondo va avanti ed è bene che vada avanti con tutti, quindi non uno di meno anche nell'ambito delle nuove tecnologie. È una grande opportunità perché una persona non più giovane che nel proprio percorso formativo non ha a gioco forza conosciuto queste opportunità se le mette a sistema lo fa per sé ma lo fa anche per tutti quelli che ha intorno. Quindi un nonno che sa pagare la bolletta attraverso internet è un contributo a se stesso ma a tutta quella famiglia e poi perché i diritti crescono con le opportunità. E quindi come diceva Don Milani poter usufruire, poter essere padrone dei linguaggi è il primo elemento di libertà. Oggi i linguaggi sono cambiati e noi garantiamo un elemento di libertà e di coesione facendo sì che possano essere propri di tutti.